Avere il destino segnato prima ancora di venire al mondo. Condannato dalle colpe di chi, nonostante l'amore, non è riuscito a proteggerlo. È stato un caterpillar la vita per il piccolo Domenico. Morto sotto una raffica di proiettili a soli tre anni. Portava il nome del padre che non ha mai conosciuto. Anche lui morto ammazzato, mentre il piccolo era ancora in grembo alla madre. Poi era arrivato lui, così morlando. E con lui, chissà, la speranza di un nuovo genitore. Frequentava la loro casa da pochi mesi, considerato che era da poco il regime di semi-libertà, dopo aver scontato 13 dei trent'anni di carcere, cui era condannato. Per questo, prima dell'agguato, la famiglia del piccolo Domenico, con la sua mamma e i due fratellini di 6-7 anni, lo stavano accompagnando alla casa circondariale di Taranto. Hanno percorso questa strada e questi sono stati i loro ultimi chilometri prima della morte. Chissà se Domenico dormiva sulle ginocchia della vittima designata, l'unica probabilmente, che avrebbe dovuto morire. Invece, non c'è stato neanche il tempo dell'ultima ninna nanna. Avevano trascorso la serata dai parenti, che ora dovranno prendersi cura dei fratellini sopravvissuti, così piccoli, con un fardello di sangue così grande. Il pensiero di tutti i vicini di casa, in via le stazioni al Civico 52, è per loro. Un peccato, anche per i bambini che restano soli. La conoscevo, poi i bambini, siccome ho un bambino anch'io, di quell'età, non dovrebbero succedere queste cose. A me degli adulti non mi dispiace per niente, ma per i bambini sono mortificati, come genitore, come nonno.